Per mille bombarde, mille funiculari, quando me l'hanno detto non ci volevo credere. E pensavo di cui questo è il solito pesce d'aprile. Ah non vedi che roba, ah non vedi che roba, hanno smontato l'opera del genio Sloci. Ma dimmi tu, cosa è da non credere, vedi che smontano pure questa cosa, ma basta impire l'occhio in mezzo, no, basta impire l'occhio. Ma di che stiamo a parlare? Mannaggia la miseria, per mille funiculari. Se rigira il mondo qua, un'opera come quella del genio Sloci smontata. E ce farò un articolo con tutti i filmati perché qui da risate, da risate se ne siamo fatte ma proprio tante, per mille funiculari. Grazie. Grazie. Grazie.